Taranto, Paolo VI, via 25 Aprile, è qui il degrado. Uno scantinato, una cantinola, parliamo di abitazioni IACP, questa cantinola completamente immersa da acque di vario genere, da liquami. Una situazione che si protrae da anni e da anni. Siamo con alcuni abitanti della zona, non ne possono più perché il cittadino paga le tasse, il cittadino pretende dei servizi ma si vede trattato da cittadino di serie Z. Ecco, siamo qui con un abitante. Signora, il suo stato d'animo? Io ci abito qua da 40 anni, amiamo questo quartiere perché siamo cresciuti, abbiamo i figli, stanno crescendo i nostri figli, però non ci considerano proprio a livello disumano. Abbiamo fatto tante richieste, sono venuti parecchi consiglieri comunali a mettersi in mostra, a fare foto. A chiedere i voti, a farsi belli? Vabbè, non voglio prolungare, se no, mociatac, squasciate le camere, è meglio che mi mantengo sulle mie, per mettersi in mostra, per farsi vedere, ma alla fine non hanno fatto niente, senza fare i nomi, che poi farò anche i nomi se è necessario. Stiamo senza luce da Capodanno, hanno buttato una bomba perché almeno questo ce lo devono far fare, no? Festeggiamo perché almeno questo lo sfoga a Capodanno, festeggiamo. E se ne è andata la luce da Capodanno che questa villetta è completamente al buio, i bambini giocano al buio, qua abbiamo anche la chiesa con gli emigrati, non sono una... aiutami. Certo, non è razzista. Però non sono tarantini come noi, italiani come noi, stiamo con gli occhi aperti perché qua girano i negri, non fanno niente di male. Però stare senza luce con questi emigrati nel nostro quartiere è un grande... C'è un timore. E niente, voglio dire, abbiamo fatto molte richieste al comune, l'OIACP, l'Acquedotto, ma nessuna risposta, niente. Qua fra poco il Palazzo Vattera fanno la fine di quelli di Castellaneta, però nessuno interviene. Voglio fare un appello al comune che non si scontrassero le corne per fatti loro, perché a noi dei fatti loro alla fine non ci interessa. Voi dovete fare il bene dei cittadini, punto. Poi le corne ve li scontrate in una seconda sede, sono fatti i vostri. Quindi voglio chiedere l'intervento al comune, agli ordini competenti, di massima urgenza. Li do un altro po' di tempo, poi mi prendo tutti i cittadini, vado sotto al comune e faccio vedere chi siamo noi. Punto. Grazie.